La parola al Consigliere Calise, successivamente al Consigliere Morelli. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle è totalmente favorevole alla proposta e voterà quindi a favore della delibera e dell'emendamento che è stato concordato con i proponenti delle tre proposte. Grazie. Abbiamo seguito un lungo lavoro in Commissione, non credo ci sia altro da aggiungere in Consiglio Comunale se non il ringraziamento a nome del Movimento 5 Stelle e ai comitati che hanno fatto un lungo lavoro e hanno scelto di utilizzare lo strumento della delibera di iniziativa popolare, per noi un qualcosa di importante che dovrà essere in futuro sempre utilizzato maggiormente. Quindi grazie per il lavoro nei mesi di raccolta che sappiamo essere decisamente intenso. Grazie Consigliere Calise, la parola al Consigliere Morelli.